Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal E oggi ragazzi siamo in un altro incredibile, epico chest opening su Clash Royale Guardate che cosa sono riuscito a portarvi, cassa leggendaria e cassa epica in un unico chest opening ragazzi Davvero incredibile, stiamo facendo davvero dei bei chest opening Signori però io torno a ricordarvi come ho detto nei video precedenti Che vorrei quasi quasi chiudere qui la serie Royale The Beginner Dove vi porto i chest opening anche solo di Golden Chest Anche se è un format che praticamente diciamo si potrebbe quasi dire che ho creato io Perché nessuno porta tutte le casse oro come ho fatto io Ma lasciamo perdere questo dettaglio Mi piacerebbe chiudere qui questo format per portarvi un format leggermente diverso Ovvero i chest opening quando c'è almeno una cassa speciale Quindi non tutte Golden Chest ma almeno una Gigante, una Magical, una Super Magical e così E poi portarvi degli altri video invece completamente di battaglie Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea nei commenti Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a cominciare il chest opening Allora signori vi dico subito che qui a me piacerebbe personalmente trovare Il secondo Mago di Ghiaccio In modo da poterlo portare a livello 2 insieme a voi E magari nella cassa epica Ma cos'è sto casino? Ostia che devo registrare! E magari nella cassa epica Scusatemi ma quando sento i botti per la Madonna Mi piacerebbe trovare magari le Veleno Sarebbe veramente una buona carta da potenziare E se riuscissimo a potenziarla abbastanza Potremmo andarla a sostituire alla Zap E completare così il deck Perché mi piacerebbe al posto della Zap mettere o la Veleno o la Palla di Fuoco Dipende tutto da qual è che riesco a tirare più su Ovviamente se riusciamo a tirare su la Veleno con questa cassa Sceglierò la Veleno Andiamo a cominciare il chest opening Vediamo un pochino che cosa riusciamo a trovare Ok, oro, due gemme Capana dei Goblin E Gigante Royale Ok, ovviamente signori Noi non troveremo mai una Leggendaria in una free chest Perché sarebbe troppo una figata Andiamo con oro Estrattore di Elisir Che li mettiamo via Che per il momento li hanno depotenziati E a noi non piace questa cosa E andiamo avanti così ragazzi Ora due Golden Chest Crown Chest Baule Epico E poi Leggendario ragazzi Andiamo avanti Ok, la connessione come sempre dalla nostra parte Andiamo con 205 di oro Un Arciere 13 Frecce 15 Orle di Sgherri E 3 Sfere Infuocate Eccola qui che l'abbiamo nominata E giustamente Piliamo Fuoco Andiamo con l'ultima Golden Chest Ok 196 di oro 9 Giganti Royale 9 Cavaliere Molto bene Che lo voglio portare assolutamente A livello 10 Orda di Sgherri Ultima carta Gigante Maledizione Il Gigante non lo volevo Andiamo avanti ragazzi Momento abbastanza epico Ultima carta Prima dei due bauli E andiamo così Ultima Scusatemi Cassa volevo dire 492 di oro Benissimo 3 Gemme Ancora sti 3 Moschettieri E basta 2 Giganti Ancora 3 Mega Sgherro Ultima carta 58 Spiriti del Fuoco Non mi poteva dare 58 Cavalieri No Gli Spiriti del Fuoco Va bene Grazie Royale Ti voglio bene anche io Signori Momento più epico del video Siamo arrivati Momento più epico Perché ovviamente Dobbiamo aprire Il baule epico Andiamo subito così Vediamo che cosa ci riserva Subito Finalmente Sbloccato il bocciatore Ragazzi Incredibile Andiamo avanti ancora Con la strega No Dammi le veleno Dammi le veleno Ragazzi pregate perché ci sia Le veleno Ovviamente 8 Pecca Cioè ragazzi 8 Pecca La cassa epica Più inutile Della storia L'abbiamo beccata noi Forza così Ma signori Adesso Perlomeno abbiamo sbloccato Una nuova carta Adesso signori C'è il baule leggendario E quindi qui Potremmo ancora rifarci Diciamo che sarebbe Bello Trovare La principessa O il mago di ghiaccio Se non altro Queste sono le due carte Che preferisco in assoluto Il mago di ghiaccio Sicuro lo porterei al 2 La principessa Non so se la metterai Subito nel deck O magari la userai In un deck futuro Più avanti Vediamo un pochino Che cosa troviamo ragazzi Momento incredibile Palpitazione al cuore E bam Eccola qui ragazzi Il tronco Madonna che schifo Ma non è possibile Vabbè lo stanno potenziando Da dio questa carta La stanno potenziando Veramente tantissimo Ma con tutte le leggendarie Che ci sono Madonna Cosa avrei dato Per trovare il secondo Mago di ghiaccio E vabbè ragazzi Sono comunque Due nuove carte Non la posso mettere il tronco Al posto della zap Perché il tronco Non colpisce in aria E quindi Le orde di sgherri Poi Mi farebbero Erculo Andiamo subito A potenziarci Oggi Lo facciamo subito Perché l'ultima volta Con il domatore Mi sono completamente Dimenticato Andiamo a potenziarci Il nostro moschettiere A livello 7 Eccolo qui Bam Moschettiere a livello 7 Overpower Questa carta ragazzi Mamma mia Mi piace veramente tantissimo 200 di esperienza per noi E andiamo a vedere Le nuove carte Che abbiamo trovato Per vedere un pochino Le caratteristiche Ecco qui Il bowler Questo macione blu Adora le cose semplici Della vita Ha esattamente La descrizione Che c'è su Clash of Clans Se non mi sbaglio Comunque Un'ottima carta tanca Se non fosse per il fatto Che costa così tanto Un peccato Che costa 5 Se fosse costata 4 Ci avrei pensato ragazzi Vi dico la verità Ci avrei pensato Ed ecco qui Tra l'altro Incantesimo Economico da dio Perché costa veramente Pochissimo Una bottiglia di furia Rovesciata Ha trasformato Un innocente pezzo Di legno Nel tronco Ora cerca di placare La sua sete di vendetta Schiacciando tutto Ciò che incontra La carta non è male Ragazzi Io me la sono trovata Contro varie volte Contro gruppi di Truppe nemiche A bassa vita Ovviamente fa veramente I culi Senza contare poi Che anche respinge Tutte le truppe Quindi È veramente forte Come carta Andando a Vedere Ma non saprei Al momento Al posto di cosa Metterla L'unica che mi viene in mente Sono i goblin Ma sono a livello 9 Signori E Non me la sento Per il momento Di toglierli Per il tronco Andiamo ragazzi A farci una battaglia Insieme Vediamo un pochino Cosa riusciamo a combinare Ok ragazzi Eccoci qua Andiamo contro Cam Un saluto Bella Cam Non voglio Prolungare Questo discorso Perché Ops Ho sbagliato anche Buona fortuna Volevo dire Scusami Ok Subito lui ci va Di gigante Ok Quindi dobbiamo mettere Maledizione Non trovo truppe A danno Multiplo Quindi andiamo a mettere Qui dietro il nostro minatore Per far fuori La sua streghetta Andiamo a mettere qui Il moschettiere Perché se no ci fa Troppi danni Madonna non l'abbiamo fatto fuori La strega con il minatore Assurdo Assurdo ragazzi No la connessione No dai la connessione No eh Ti prego Dai veloce veloce Domatore Veloce 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 Prima che mi ammazzi Perfetto Vai così Ok Molto molto male Andiamo a metterci qui Una scarichetta Per dare un colpo in più Perfetto Vai così Ok Siamo riusciti ad andare A dare qualche colpetto Alla sua torre Ha messo Il moschettiere Proprio nel momento Preciso Per non farselo Ammazzare E' stato Molto bravo in questo Ok vediamo se riusciamo A salvare la torre No Non siamo riusciti A salvare la torre Ok non importa Dai non importa ragazzi Andiamo ancora Con una combo Molto forte Che Abbiamo Ragazzi abbiamo per terra Cavagli No infame Non puoi farmi questo Con queste carte Così cancro Andiamo a mettere qui dietro Un minatore Andiamo a fare qualche danno Che magari adesso Riusciamo a buttare giù Il gigante E le nostre carte Ovviamente avranno Il suo tank Ecco Esattamente Quello che volevo Che succedesse Anche se purtroppo Il minatore E' andato giù Abbastanza in fretta Ma riusciamo comunque Forse No non riusciamo A fargli fuori Anche la strega Peccato Peccato Ma noi ripartiamo Subito dall'altra parte Perché tanto il gigante L'ha già giocato Andiamo a mettere di qui Il nostro bombarolo Che dovrebbe bloccare I suoi barbarozzi Che sono veramente potenti Non fa in tempo Purtroppo La torre L'abbiamo persa Anche noi Ma gli abbiamo fatto Un buon danno Sull'altro lato Molto molto bene Adesso la strega Al 4 La salutiamo Perché va via Assolutamente Deve andare via Ok è andata via Ripartiamo dall'altra parte Ragazzi Andiamo con due tank Per proteggere il nostro Moschettiere Ok andiamo anche Con la zap Per rallentare il tutto Dai 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 Moschettiere Dai moschettiere Fammi danno Fammi danno No cazzo Andato sul moschettiere Nemico Vabbè dai ragazzi Va bene Anche così No il gigante Adesso non lo voglio Ragazzi Non lo voglio il gigante qua Madonna due carte Che vanno contro la torre Ma stai scherzando Dai ma quanto sei infame No no Così bisogna essere Proprio degli Ragazzi Bisogna essere degli stronzi Però eh Non si possono fare ste cose Dai Ma come mi ha preso male Sta torre Mamma mia Ragazzi Me l'ha presa proprio male Però adesso noi ci troviamo Una buona combo Su questo lato Ragazzi Possiamo fare il delirio Ragazzi qua possiamo fare Veramente bene Dai 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 ragazzi Buttatemi giù con la torre Buttatemi la giù Oh mamma ragazzi Anche con la connessione di merda Siamo riusciti a buttarmi giù la torre No Non è vero Ragazzi Ma avete visto Avete visto che cosa è successo No Ragazzi io questa battaglia Ve la lascio Non la toggo Perché dovete vedere Le cose che mi capitano Le cose che sopporto Per portarvi video Assurdo Ragazzi Veramente assurdo E ha avuto pure il coraggio Di riderci in faccia Davvero incredibile Signori Io spero che questo video Totalmente fail Vi sia piaciuto Davvero incredibile Chest opening Assurdo Ogni carta Era quella Sbagliata E la battaglia finale Beh raga L'abbiamo vista insieme Che cosa è successo Signori Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Io vi saluto E vi ringrazio tanto Se non vi è piaciuto il video Beh almeno Lasciatelo per me Come consolazione Bella raga Ring why tequila A presto Ring my tequila Ring my tequila Tequila Yo to Tequila Grazie a tutti.